Benvenuto nel nostro canale. In questo video troverai le migliori 35 citazioni di Charles Bukowski. Non mi piacciono gli uomini perfettamente rasati, con la cravatta e un buon lavoro. Mi piacciono gli uomini disperati, con i denti rotti, il cervello a pezzi e una vita da schifo. Detesto i prati. Tutti hanno un prato con l'erba. E quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri, si diventa tutti gli altri. Cominciai a guardarle su per le gambe. Mi sono sempre piaciute le gambe. È stata la prima cosa che ho visto quando sono nato. Ma allora stavo cercando di uscire. Da quel momento in poi ho sempre tentato di andare nell'altra direzione, ma con fortuna piuttosto scarsa. Le feci tenere su le calze e le scarpe coi tacchi alti. Sono un freak. Il corpo a naturale non lo reggo. Ho bisogno di farmi ingannare. Gli psichiatri hanno un termine specifico per questo. E io ho un termine specifico per gli psichiatri. Una delle più grandi opere d'arte dell'uomo. Una donna con delle belle gambe che esce dalla macchina. Il rapporto sessuale è prendere la morte a calci nel culo, mentre si sta cantando. La vita mi faceva semplicemente orrore. Ero terrorizzato da quello che bisognava fare solo per mangiare, dormire e mettersi addosso qualche straccio. Così restavo a letto a bere. Quando bevi il mondo è sempre lì fuori che ti aspetta, ma per un po' almeno non ti prendi alla gola. A volte pensavo al fegato, ma lui non parlava mai. Non diceva mai. Smettila. Tu stai ammazzando me e io ammazzerò te. Se avessimo il fegato parlante, non avremmo bisogno degli alcolisti anonimi. La gente non ha bisogno di affetto. Quello di cui ha bisogno è il successo, in una forma o nell'altra. Magari successo in amore, ma non necessariamente. I capi? Senz'anima e di mediocre intelletto. Implacabili con i subalterni. Un buon poeta non sa mai chi e cos'è. È a un passo dall'orlo dell'abisso, ma non c'è niente di sacro in quello che fa. È un mestiere, come lavare i pavimenti di un bar. Le donne erano destinate a soffrire. Non c'era da meravigliarsi che volessero sempre grandi dichiarazioni d'amore. Il miglior lettore e il miglior essere umano sono quelli che mi fanno la grazia della loro assenza. L'uomo con la cucina sempre in ordine è un maniaco. Diffidatene. Lo stato della sua cucina e quello della sua mente coincidono. Costui, così preciso e ordinato, si è in realtà lasciato condizionare dalla vita. Paradossalmente, la gente che crede di sapere sempre tutto è proprio quella che non capisce mai un cazzo. Ci sono dei momenti in cui la follia diventa così vera che non è più follia. Che fine ha fatto la semplicità? Sembriamo tutti messi su un palcoscenico e ci sentiamo tutti in dovere di dare spettacolo. Io dico alle donne che la faccia è la mia esperienza e le mani sono la mia anima, qualunque cosa pur di tirare giù quelle mutandine. Ovviamente è possibile amare un essere umano se non lo si conosce abbastanza bene. La schiavitù non è stata eliminata affatto. È solo stata allargata fino a comprendere i nove decimi della popolazione. Resistere ha senso solo se ne esci con qualcosa in mano alla fine. Ma resistere tanto per resistere è l'infelice condizione di milioni di persone. La poesia qualcosa vale, credetemi, impedisce di impazzire del tutto. Il genere umano ha molte debolezze, ma le due principali erano incapacità di arrivare in orario e incapacità di mantenere le promesse. Mi guardai intorno. Non c'era nessuna donna lì in quel caffè. Ripiegai sulla cosa che sta al secondo posto in graduatoria. Sollevai il mio bicchiere e lo scolai. Sono i tipi eccezionali che fanno girare il mondo. Loro fanno i miracoli mentre noi ce ne stiamo con il culo a mollo. Il mio consiglio ai giovani scrittori è quello di smettere di cercare consigli dai vecchi scrittori. Abbiamo selezionato alcune delle più interessanti citazioni di Charles Bukowski e le abbiamo riunite in questo video per te. Egli è stato un poeta e scrittore noto per il suo stile schietto e diretto con il quale raccontava la vita umana con ironia e disincanto. Vorremmo sapere quale di queste frasi ti ha colpito di più. Lascia un commento qui sotto e se non lo hai ancora fatto iscriviti al nostro canale. Grazie per averci seguito.